ciao a tutti oggi vedremo l'ultima proprietà degli shape layer ovvero la proprietà wiggle transform con il wiggle transform è possibile aggiungere una vibrazione cioè un'animazione casuale random sulla posizione sulla scala o la rotazione delle varie forme degli shape layer senza però aver bisogno dei keyframe bene cominciamo subito con un esempio dall'elenco delle forme questa volta prendiamo la forma rettangolo e disegniamo un piccolo quadrato al centro della composizione quindi mentre disegno il rettangolo tengo premuto lo shift in modo da avere un quadrato vengo nella timeline e come faccio di solito seleziono il contenitore tutte le forme contents e dal menu add scelgo la proprietà che voglio in questo caso wiggle transform eccolo qua appena applicato non succede ancora nulla se io prendo il cursore lo muovo avanti indietro nella timeline come potete vedere il quadrato non ha ancora alcuna animazione benissimo quindi adesso entriamo a vedere i parametri di wiggle transform saltiamo i primi cinque parametri dei quali l'unico importante vedremo poi è il primo wiggle seconds e andiamo direttamente nella sezione chiamata transform apriamo il suo contenuto e come esempio proviamo a lavorare sul parametro position aumentando soltanto il valore x della position per esempio possiamo assegnargli un valore intorno ai 300 pixel come vedete il quadrato si è mosso e se prendo il cursore lo muovo avanti indietro vedete che il quadrato ha un movimento casuale un po a destra un po a sinistra se facciamo una preview di qualche secondo per esempio di 3 4 secondi vedete che il quadrato si muove come dicevo prima casualmente un po a destra un po a sinistra però rispetto alla sua posizione originale non si sposta mai più di questi 329 pixel a destra o a sinistra ma la cosa più importante come dicevo all'inizio questa animazione avviene senza bisogno dei keyframe e tutto dipende dal primo parametro che sta in alto il wiggle seconds che al momento è su 2 se io questo parametro lo aumento per esempio 8 adesso il movimento casuale è uguale a prima ma è più rapido e se questo valore io lo portassi a 0 ecco gli assegno un valore 0 ecco il quadrato si ferma e non ha più animazione quindi modificando il valore del parametro position ho deciso quanto è ampia l'oscillazione ma la vera e propria animazione la faccio assegnando un valore a wiggle seconds che decide la velocità con cui ho la vibrazione più è alto questo numero e più è rapida la vibrazione in questo caso sulla posizione bene riportiamo questo valore come era l'origine cioè 2 e adesso proviamo a fare qualche altro tipo di variazione proviamo adesso a zerare questo valore a posizione x e aumentare il valore della posizione y anche qui 200 300 pixel facciamo partire la preview e in questo caso la vibrazione avviene soltanto in senso verticale la velocità della vibrazione dipende come al solito dal wiggle seconds e l'aumento come ho fatto prima la vibrazione è più rapida se lo diminuisco rallenta benissimo e se attivassi contemporaneamente la posizione y e anche la posizione x e faccio di nuovo una preview come potete vedere il quadrato si muove in modo casuale in tutte le direzioni sia orizzontalmente sia verticalmente oppure potrei a zerare i valori del parametro position e aumentare il parametro scala ecco per esempio se adesso facessi una preview vedete che la vibrazione avviene sulla scala cioè il quadrato continua aumentare o diminuire la grandezza in modo casuale e la velocità con cui lo fa dipende sempre dal wiggle seconds che se aumento la pulsazione avviene più rapidamente se diminuisco più lentamente bene anche in questo caso potrai lavorare solo sulla scala x o sulla scala y quindi se spengo la catenella che tiene collegati i due valori potrai per esempio a zerare la scala y e se faccio una preview adesso vedete che si allarga e si stringe orizzontalmente e basta e non verticalmente oppure viceversa potrai a zerare la scala x e aumentare la scala y e in questo caso come vedete si allunga soltanto in senso verticale a zeriamo anche questo valore riaccendiamo la catenella adesso proviamo a fare una vibrazione sul parametro rotation aumentiamo il valore di rotation facciamo partire la preview e come potete vedere adesso rotazione a destra a sinistra casuale e tutto dipende dalla velocità del wiggle seconds qua sopra benissimo ecco in questi ultimi due casi cioè facendo la vibrazione sulla scala la rotation abbiamo notato che l'anchor point che viene preso in considerazione durante questa animazione casuale sta al centro della forma infatti vedete che ruota al centro e quando si ingrandiva si rimpiccioliva lo faceva rispetto al suo centro ecco in questo caso particolare quando si lavora con il wiggle transform per spostare l'anchor point bisogna modificare la posizione originale della forma e cioè bisogna entrare dentro il contenitore della forma in questo caso rectangle one aprire entrare dentro rectangle path che contiene le proprietà che gestiscono l'aspetto della forma e qui troviamo una position ecco se adesso io cambio il valore della posizione l'aumento lo diminuisco e faccio in modo che il rettangolo si sposta alla sua posizione originale quando farò di nuovo la preview ecco in questo caso vedete che il quadrato siccome l'ho spostato rispetto al suo anchor point ruoterà in modo diverso da prima e quindi in questo caso ruota in questo modo qua quindi ripeto se volete fare in modo che l'anchor point non si trovi al centro della composizione quando c'è la vibrazione dovete per forza modificare questa posizione e non andare a mettere mano alla proprietà anchor point ma soltanto la position originale della forma che sta dentro il contenitore della forma vera e propria che in questo caso rectangle path 1 bene di nuovo riazzero questo valore in modo che ritorna l'anchor point al centro della forma e chiudo la sezione rettangolo ecco tornando un attimo a parlare di queste prime cinque proprietà come vi ho detto prima l'unica importante è la prima cioè wiggle second che se aumentate o diminuite aumenta o diminuisce la velocità di vibrazione le altre correlation tempo la spatial phase random seed sono praticamente irrilevanti cambiano sì un pochino ma impercettibilmente il movimento generale che comunque rimane sempre casuale soltanto il secondo parametro correlation diventa importante in un unico caso particolare che vi farò vedere tra poco benissimo adesso alcune osservazioni vediamo per esempio cosa succede quando io agisco contemporaneamente su più parametri del wiggle transform cioè in questo caso abbiamo aumentato il valore di rotation in modo che ruota casualmente ma proviamo anche ad aggiungere un movimento casuale orizzontale quindi aumentando anche la posizione x quindi faccio partire alla preview e come vedete i due parametri sono in qualche modo collegati notate che quando il quadrato si sposta verso destra cioè aumenta il valore della posizione contemporaneamente ruota in senso orario e quando invece si sposta verso sinistra ruota in senso anti orario e se aumentassi anche il parametro scala e faccio una preview notate che quando si sposta verso destra e ruota in senso orario si ingrandisce e quando invece va nella direzione opposta e ruota nella direzione opposta si rimpicciolisce il che significa che questi tre parametri sono in qualche modo collegati fra di loro ma se io invece volessi fare delle vibrazioni completamente scollegate una dall'altra per esempio un'animazione casuale sulla posizione e un'alta sulla rotazione ma in modo che siano completamente indipendenti una dall'altra devo applicare più volte il wiggle transform una volta per la position e un'altra volta per la rotation facciamo subito l'esempio allora facciamo che questo primo wiggle transform uno mi serve per muovere a destra a sinistra il quadrato quindi mantengo la vibrazione sulla posizione a 0 quella sulla scala e a 0 anche quella sulla rotation e quindi come vedete si muove soltanto casualmente avanti indietro bene in questo wiggle transform non modifico più nulla seleziono contents e aggiungo un secondo wiggle transform che mi servirà per fare la vibrazione soltanto sulla rotazione apro i suoi parametri vado nella sezione transform e aumento il valore della rotation faccio una preview e come vedete i due movimenti casuali sono indipendenti uno dall'altro in questo caso quando il quadrato si muove verso destra non è detto che la rotazione avvenga in senso orario potrebbe venire anche in senso anti orario e viceversa dall'altra parte quindi due vibrazioni su due parametri diversi ma non collegati fra di loro e potrei aggiungere un terzo wiggle transform per fare anche un'animazione indipendente sulla scala se volessi bene questa è una cosa adesso proviamo a vedere cosa succede quando applico il wiggle transform a più di una forma contemporaneamente quindi adesso eliminiamo lo shape layer lo seleziono lo cancello e disegniamo tre forme di nuovo un piccolo quadrato qui a sinistra poi disegniamo anche magari un cerchio al centro e prendiamo anche una stella la disegniamo qui a destra benissimo adesso seleziono di nuovo content e aggiungo nuovamente wiggle transform apro i suoi parametri vado direttamente a transform e agiamo in questo caso sulla scala e facciamo una preview e notiamo che cosa succede succede che la vibrazione avviene contemporaneamente su tutte e tre le forme con la stessa velocità ma le tre animazioni comunque sono diverse e non è possibile in nessun modo far sì che le tre forme abbiano la stessa identica animazione casuale quindi wiggle transform quando trova prima di se è più di una forma applica la regola in modo diverso per ogni forma bene e se invece volessi fare una vibrazione diversa per ogni forma cioè ad esempio sul quadrato una vibrazione sulla scala sul cerchio una vibrazione sulla posizione e sulla stella una vibrazione sulla rotazione dovrai applicare il wiggle transform direttamente all'interno delle varie forme in modo che agisca soltanto su una forma alla volta facciamo subito l'esempio selezioniamo il wiggle transform eliminiamolo quindi cominciamo dal quadrato seleziono il quadrato questa volta è non contents e dal menu add aggiungo wiggle transform in questo caso vado a cercare i suoi parametri e come abbiamo detto prima aumentiamo il parametro scala e quindi il quadrato ha una vibrazione sulla scala ma questa vibrazione non agisce anche sul cerchio è la stella perché si trova all'interno del contenitore del quadrato bene chiudiamo il contenitore quadrato selezioniamo l'ellisse e gli aggiungiamo anche qui un wiggle transform e a questo wiggle transform aumentiamo per esempio la posizione verticale e in questo caso come vedete ha un'animazione casuale in su e in giù chiudiamo anche l'ellisse selezioniamo la stella e dal menu add aggiungiamo un'altra volta wiggle transform apriamo i suoi parametri e in questo caso facciamo un'animazione sulla rotazione quindi rettangolo scala il cerchio posizione e la stella rotazione se faccio una preview tre vibrazioni diverse una per ogni forma però ho dovuto inserire il wiggle transform all'interno della forma ma questa regola già la conosciamo l'abbiamo applicata anche alle altre proprietà benissimo cancelliamo anche questo shape layer e vediamo l'ultimo caso cioè cosa succede quando applico contemporaneamente il wiggle transform e la proprietà repeater che abbiamo visto nel tutorial precedente allora prendiamo di nuovo lo strumento rettangolo e disegniamo questa volta una piccola barra verticale benissimo adesso selezioniamo di nuovo contents e aggiungiamo ancora wiggle transform apriamo i suoi parametri e in questo caso facciamo una vibrazione soltanto sulla scala verticale in modo che se a lungo si accorcia soltanto in senso verticale quindi spegniamo la catena della scala e aumentiamo soltanto il secondo valore quindi ho una vibrazione soltanto in senso verticale chiudiamo wiggle transform adesso selezioniamo contents e aggiungiamo la proprietà repeater immediatamente il repeater lo sappiamo crea tre copie e le distribuisce orizzontalmente verso destra apriamo però un attimo repeater e aumentiamo un po il numero di copie così se facciamo una preview come potete notare la vibrazione che avevo sulla prima copia viene ripetuta per tutte le copie e questo perché avviene perché la proprietà wiggle transform agisce prima della proprietà repeater cioè io ho il rettangolo al rettangolo applico la vibrazione e una volta che ho un rettangolo che vibra lo replico più volte con il repeater e quindi tutte le copie hanno la stessa identica vibrazione ma se io chiudo un attimo repeater prendo la proprietà wiggle transform e la sposto dopo la proprietà repeater adesso la situazione è cambiata infatti lo vedete immediatamente ogni barra ha una dimensione diversa non sono più uguali perché perché io ho il rettangolo che viene prima replicato la proprietà repeater e il wiggle transform siccome entra in azione dopo che ho creato le copie con il repeater agisce in modo indipendente su ogni copia infatti se faccio una preview come vedete bene ogni copia del rettangolo vibra in modo diverso dalle altre bene però apriamo un attimo i parametri di wiggle transform e concentriamoci un attimo sul parametro correlation ecco questo è il caso in cui la proprietà correlation ha una certa importanza al momento impostato al 50 per cento ma se io questo valore lo porto al massimo cioè al 100 per cento come vedete adesso tutte quante le copie si comportano allo stesso modo hanno tutte la stessa identica vibrazione mentre se porto questo valore al minimo c'è il massimo di casualità per ogni copia mentre invece se lo porto al massimo come ho fatto vedere prima faccio la preview di nuovo vedete che tutte vibrano allo stesso modo e in particolare se voi abbassate questo valore dal 100 per cento per esempio a 97 vedete che le animazioni sulle varie copie sono sì una diversa dall'altra però tendono ad essere simili più ma lontano e più sono diverse però se sto abbastanza vicino al 100 per cento ho un'animazione così tipo ondulatoria e a 0 per cento invece che il valore minimo di correlation non c'è alcuna relazione tra una vibrazione è l'alta totalmente casuale totalmente random benissimo questo era l'ultimo esempio che riguarda la proprietà wiggle transform e quindi ci vediamo alla prossima ciao